Sindaco Convedelago, ci sono problemi? Questo finanziamento era stato assegnato al Comune di Teramo dall'Aggiunta Chiodi, 1.800.000 euro. C'è un accordo di programma, erano stati chiesti dei chiarimenti dal Ministero, chiarimenti erano stati dati. Adesso mi si dice che i finanziamenti verranno dati all'Agir, noi abbiamo aderito all'Agir il 20 maggio 2014, qualche giorno prima del voto, Manolo Di Pasquale non era presente in Consiglio, perché non lo sa, ma nuova legge sui rifiuti del 2013 dice all'articolo 1, sui principi generali, dopo tutta una serie di aspetti, al fine dell'ora adeguato ed economico di utilizzo, reimpiego e riciclaggio. È quello che faceva la piattaforma di Tipoec che farà Vede Lago. Mi aspetto e mi aspettavo e mi aspetterei che Manolo Di Pasquale stesse al fianco del Sindaco Brucchi come consigliere comunale di Teramo, ma evidentemente Manolo Di Pasquale si sente più vicino ad altri territori rispetto a quello di Teramo e questo è un po' stucchevole oggettivamente. A proposito di rifiuti, giovedì Consiglio Comunale sulla Team, cosa sarà? Cinema e varietà? Io mi auguro, ma sono certo di no. Io auspico che sia un Consiglio Comunale costruttivo, propositivo, che guardi al futuro, così come ho fatto io in questi mesi quando ho cercato di coinvolgere, e anche qui Manolo Di Pasquale non sa quello che dice, ho lavorato per coinvolgere tutto il territorio. Spero che sia un Consiglio Comunale costruttivo, propositivo, che non ci sia dietrologia, perché di dietrologia non l'ha mai portato a nulla, che ci siano soluzioni. Il mio compito è quello di prospettare in maniera asettica quelle che sono le varie possibilità sul campo, quindi prospetterò la possibilità di una società totalmente pubblica, prospetterò la possibilità di una società pubblico privato, e poi sarà il Consiglio Comunale a consigliare il Sindaco quella che è la soluzione migliore. Quindi da parte mia sono pronta ad accogliere quello che il Consiglio Comunale in qualche modo vorrà consigliarmi.